Salve a tutti ragazzi oggi vi rilascio con una scatolina delle spugne e una busta era tutto il pallaggio della batteria nuova che si è presa il mio ragazzo che vi ha fatto vedere nel vlog e fa un rumorino molto carino quindi bisogna fare tutta la scatola mi avete detto che quando vi avvicino il mio cabello vi piace molto sembra qualcuno potesse interessare è molto economico questo microfono costa sui 15 euro ma ha un po' di dispersione di rumore di sottofondo quello si però anche secondo me si sente molto bene ed è l'SF666 se interessasse io l'ho preso su amazon ma c'è anche su ebay e altre simili non 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 Purtroppo ci sono numeri perché sono le 30 punti di YouTube e ho finito di lavorare Purtroppo ci sono le 30 punti di lavoro Metto un attimo da parte la scatolina per prendere questa fantastica Ora mi allontano un po' dal microfono Purtroppo ci sono le 30 punti di lavoro Purtroppo ci sono le 30 punti di lavoro Lamento un attimo da parte Purtroppo ci sono le 30 punti di lavoro 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 Purtroppo ci sono le 40 punti di lavoro Purtroppo ci sono le 30 punti di lavoro Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Fatemi sapere Se vi siete rilassati Se questo video Che vi è piaciuto Aspetta al prossimo Alla prossima